Ciao a tutti ragazzi e bentornati su MantoDea Aita. Nel video di oggi affronteremo un discorso molto importante che ricchiude il senso stesso dell'allevamento in cattività delle mantidi e del nostro rapporto con questi animali. Dunque vi invito a guardarlo tutto anche se pensate che non vi riguardi perché non esagero se vi dico che si tratta forse del video più importante su questo canale. Il motivo per cui ho scelto questo titolo è perché sempre più spesso mi scrivete messaggi del tipo ciao MantoDea Aita ho comprato una mantide oppure ciao dove posso comprare una mantide o ancora vorrei una mantide della compagnia. Dovete sapere che apprezzo molto tutto questo e mi fa piacere che la gente si appassioni a questi insetti e voglia sperimentarne l'allevamento in prima persona. Poi il fatto che spesso siano i miei video a farvi appassionare mi rende ancora più contento e orgoglioso. Tuttavia prima di cimentarsi nell'allevamento di questi insetti bisogna rendersi conto di alcuni aspetti che molti tendono involontariamente o egoisticamente a ignorare. Adesso mi spiegherò meglio. Prima di comprare mantidi dovete ricordare innanzitutto che non sono animali da compagnia. Sono animali molto poco longevi, difficilmente vi camperanno più di un anno e mezzo, mese più, mese meno. Dunque già da questo vi dovete rendere conto che il fine ultimo del loro allevamento sarà inevitabilmente la riproduzione. Ricordate, segnatevelo ora e non lo scordate più, le mantidi si allevano per riprodurle. E la longevità è solo il più banale dei motivi. Il fascino che questi insetti incredibili esercitano su di noi è dato per gran parte proprio dal momento della riproduzione, dal fenomeno del cannibalismo e da come i due partner si rapportano tra loro. Questi insetti si allevano non per avere compagnia come fossero pesci rossi, ma per guardarli da vicino, imparare ogni giorno qualcosa su di loro e in generale sulla natura che ci circonda. Allevare una sola mantide senza almeno provare a riprodurle significa rinunciare alla parte migliore di loro, significa conservarsi egoisticamente un animale per avere una compagnia che non ci potrà mai dare, o peggio ancora per una mania di collezionismo dannoso e fine a se stesso. Un altro punto che ci tengo a considerare è che comprare esemplari singolarmente va ad arrecare un danno all'intero hobby perché si tolgono solo potenziali riproduttori. Diverse specie in passato sono scomparse dagli allevamenti anche per questo motivo. Un esempio è le festiasula pictipes che per fortuna dopo alcuni anni è tornata comunque negli allevamenti europei. Venendo al sodo, il consiglio importantissimo che do a chiunque voglia allevare mantidi è di non comprare mai una sola mantide, provare sempre la riproduzione. Per farlo vi consiglio di acquistare un minimo di 4 o 5 esemplari, ovviamente più ne comprate meglio è, spesso neanche la coppia può essere sufficiente. Se proprio volete acquistare una sola mantide, magari per fare esperienza, optate per una specie estremamente semplice e comune, come la sfodromantis o la filocrania. Chiaramente scegliete un esemplare femmina che vi camperà più a lungo. Tuttavia, essendo mantidi facili da allevare, vi renderete conto voi stessi di quanto sia molto più sensato cimentarsi nella riproduzione. Vi potreste anche pentire di non aver preso più esemplari prima. Chiudere le coppie non è mai facile. I maschi di alcune specie sono molto richiesti e trovare altri allevatori disposti a cederli può rivelarsi un'impresa molto ardua. Per questo, partire con un nutrito gruppo di neanidi vi permetterebbe di aumentare esponenzialmente le vostre possibilità di successo nella riproduzione, magari risparmiando anche qualcosa in termini economici. Infine, un ultimo appunto. Per i molti di voi che non si sentono in grado di gestire le potenziali centinaia di mantidine appena nate. Ricordate che sì, è vero che alcune specie sono davvero molto prolifiche, ma considerate che tra errori, cannibalismo, debolezze genetiche, una grande quantità di quelle neanidi le perderete comunque. Seppure vi occupate con cura maniacale di ogni singola neanide, non è così difficile rivenderle in quantità ad altri appassionati. Potete avvalervi delle fiere, delle mostre scambio, ma anche di annunci su siti e forum di terraristica o sui gruppi facebook. Tenete a mente questo video, è un valore e un'importanza unici, per questo vi chiedo per la prima volta di mettere like ma soprattutto di condividerlo il più possibile, perché potrebbe dare una grande mano alla crescita consapevole di questo fantastico hobby. Quindi vi ringrazio, vi invito come sempre a commentare in caso abbiate dubbi o richieste e anche a guardare i link in descrizione che vi potrebbero sempre essere utili. Intanto il video di oggi termina qui e noi ci vediamo alla prossima. Addios amici!